Buongiorno a tutti, oggi vi presento le attività di azienda Vurtitalia con sede a Enya, delle sue attività nel mondo del mercato delle costruzioni in legno. È un mercato in forte crescita con grandissima attenzione, soprattutto per quanto riguarda il mondo della sostenibilità, del costruire sano, della costruzione antisismica, tutte quelle proprietà che coinvolgono nel mondo delle costruzioni in legno. Come azienda abbiamo implementato una gamma a 360 gradi completa, quindi passando dall'utilizzo delle viti moderne da legno a tutto il mondo dello staffaggio, quindi l'utilizzo dell'acciaio e dell'alluminio per le connessioni linee, il mondo dell'involucro, quindi la sigillatura di tetto e pareti con membrane traspiranti e freni di vapore e tutto quel mondo degli accessori che riguarda l'edificio in legno. Potenzialmente riusciamo a dare assistenza dalla realizzazione della platea alla costruzione dell'edificio in maniera trasversale, fino a poter realizzare quasi il chiave in mano con la chiusura del tetto e l'installazione di linea vita. Tutti questi servizi e questi prodotti sono supportati da un supporto e un'assistenza a livello tecnico. Internamente abbiamo un ufficio tecnico di progettazione che dà assistenza al cliente e al tecnico progettista con l'utilizzo di un software di calcolo gratuito che va a coprire tutte le gamme tecniche, dal mondo delle viti ai tasselli allo staffaggio fotovoltaico e all'interno di questo software di calcolo si possono scaricare tutte le documentazioni e manuali di calcolo in formato PDF. Tutte queste informazioni sono convogliate all'interno di un portale dei progettisti dedicate proprio all'attività del tecnico e del progettista, dove può andare a estrapolare tutte le informazioni, fino ad arrivare al download di tutti i nostri prodotti in formato digitale, AutoCAD di XF, fino a tutti i vari formati per la progettazione in formato BIM. Proprio all'interno di questo c'è un portale dedicato, dove ci sono quasi 70.000 prodotti scaricabili in archivio e trasferibili all'interno dei vostri software di calcolo in progettazione BIM. Tra le altre cose, tutte queste informazioni, questo supporto e assistenza, lato tecnico progettista e cliente, saranno convogliate in una nuovissima attività che come azienda stiamo sviluppando, è il metaverso, quindi realizzare il nostro edificio in legno con la presentazione dei prodotti, dei servizi, del consulente tecnico all'interno di un edificio in legno nel metaverso. Quindi potremo incontrarci, fare riunioni e attività in maniera virtuale, da un punto di vista molto più emozionale, per poter visualizzare direttamente servizi, prodotti e questa fantastica tecnologia che ormai non è più futuro, ma è la realtà di oggi.